Perché scegliere un Lumia 950 o 950XL? Beh, perché per me è tutto. E grazie alla DisplayDoc mi metto comoda, accendo la TV e passo ora a scrivere i miei articoli e a curiosare cosa combinano i miei amici. Non posso più farne a meno. Lumia 950, per Continuum. Per una come me, che dimentica il PC in ufficio un giorno sì o un giorno no, poter accedere e modificare i propri file anche dalla TV quando arrivo a casa è una salvezza. Quando torno dall'università mi piace lavorare i miei progetti o modificare le mie foto. E grazie a Continuum posso farlo anche dalla TV e condividerle con il mio gruppo di lavoro. Io ho 950XL. Con Windows 10 e Continuum funziona come un PC. Giro spesso per lavoro e viaggiare leggeri è un'altra vita. Continuum è troppo comodo. Quando sono a casa a DisplayDoc e mi guardo i film acquistati sullo store. A casa, dai miei clienti o addirittura in albergo. Insomma, dove c'è un monitor lo connetto e il gioco è fatto. E se mi chiamano mentre sto lavorando, lui continua a fare lo smartphone. E io le mie presentazioni. Lo smartphone che funziona come un PC. E io le mie presentazioni. Grazie.